Lo riconoscete? Buster Keaton è arrivato in Costituccio, una nave che l'ha appena sbarcato a Genova con la moglie. Alla dogana nemmeno un sorriso di contrabbando. Ora se ne va a Milano con un programma Vecchia America. A presto caro Buster e facci ridere, di questi tempi ne abbiamo proprio bisogno.